Benvenuti a questa trasmissione istituzionale che ha la finalità di informare e comunicare meglio alla cittadinanza di Alberobello l'intervento di riqualificazione in corso nell'area di Largo Martellotta. È importante che tutti i cittadini conoscano fin nei minimi particolari l'intervento in atto ed è quindi compito dell'amministrazione arrivare nelle case di ogni cittadino e così abbiamo inteso fare oggi con questa trasmissione su Teletrullo. Prima di passare la parola all'assessore Ricci e al capogruppo Carucci che illustreranno sia con i dati tecnici di questo progetto di riqualificazione e alcune altre considerazioni che vorrà fare il capogruppo del gruppo di maggioranza di questa amministrazione ritengo sia doveroso fare una introduzione. Innanzitutto questa idea di riqualificazione non è un'idea nata in maniera isolata, al contrario è già nata almeno due anni fa da parte di questa amministrazione nel momento in cui si sono avviati tutti i necessari atti amministrativi per arrivare poi all'operatività concreta. Soprattutto non è un'idea nata in maniera isolata, anzi al contrario è un'idea che nasce insieme a una valutazione complessiva della vivibilità di quell'area per i nostri cittadini di Alberobello nonché anche per i turisti che ci raggiungono da tutte le parti del mondo. Questo è importante sottolinearlo anche perché questo intervento di riqualificazione si sta realizzando attraverso due finanziamenti che sono stati impiegati per la riqualificazione di quest'area. Un primo finanziamento che è quello che vede i lavori in corso che ci proviene dal GAL come si sa è dalla misura 321 di alcuni FEASR ma non voglio usare tecnicismi che poi possono diventare poco comprensibili e che ha come finalità, leggo per non sbagliare, servizi di utilità sociale a carattere innovativo riguardanti l'integrazione e l'inclusione sociale. Spiegherà meglio l'assessore Ricci in che cosa consiste questa prima misura di intervento. La seconda misura invece ci proviene dal contratto d'area patto territoriale, patto territoriale polis trulli grotte mare specializzato per il turismo e anche per la cultura. Quindi è bene in questa premessa iniziale focalizzare un primo punto cioè che quando si finalizzano dei finanziamenti ad un'opera concreta l'opera deve rispondere ai finanziamenti che ne permettono in questo caso la riqualificazione e quindi è un dato fondamentale. Questo per sgomberare ogni dubbio circa eventuali disorientamenti che possono crearsi nel momento in cui si vede l'opera mentre si va a realizzare. È importante sottolineare che i finanziamenti attraverso cui tutte le opere nel pubblico vengono realizzate devono rispondere alla finalità del finanziamento che è impiegato per la loro realizzazione. Mi sembra importante precisarlo proprio per non creare disorientamenti. Fatta questa premessa, poi considereremo insieme se fare anche un piccolo intervento di chiusura, ritengo sia importante passare adesso la parola all'assessore Ricci che potrà illustrare meglio come questa idea di riqualificazione dell'area di Largo Martellotta ma dell'intera offerta di vivibilità di quell'area per i cittadini di Alberobello e anche per i turisti che come abbiamo detto ci raggiungono da tutto il mondo, parte da alcuni atti amministrativi di questa amministrazione dell'anno 2013 per arrivare in tempi più o meno brevi sino alla realizzazione in corso in questi giorni. Grazie. La parola all'assessore Ricci. Grazie sindaco. Allora, questo nuovo progetto, come bene hai detto prima, parte dal 2013. quando abbiamo ottenuto il finanziamento del GAL che ci permetteva di realizzare nella struttura delle attività un intervento proprio mirato agli scopi sociali. sin dal 2013 quindi ne abbiamo parlato in consiglio comunale, in tutti i consigli comunali dove c'era l'approvazione del bilancio di previsione o il consuntivo o quant'altro ho sempre parlato che in questa struttura veniva per metà finanziato dal GAL quindi circa la metà dal GAL e a 20 scopi sociali. Infatti più volte è stato detto in consiglio comunale, abbiamo sempre parlato, discusso che erano stati previsti diversi laboratori di musica, laboratori di disegno, sala computer, sala ginnica, spazi per la socializzazione, per i diversamente abili. chiaramente in un primo momento si parlava soltanto della parte, ecco se possiamo bloccare questa immagine, Piero, quella precedente, ancora, ancora, ok puoi anche bloccare questo. In questo lato, esatto, dove c'è la freccia era la parte riservata proprio al finanziamento del GAL per realizzare questi laboratori. Chiaramente all'interno di questi laboratori c'è anche una galleria espositiva e quindi sin dal 2013 abbiamo più volte detto, più volte illustrato, se non in questo modo proprio illustrato fisicamente, quello che erano i progetti. poi successivamente abbiamo ottenuto un altro finanziamento, quello del patto polis come ha detto prima il sindaco, in modo da poter realizzare la seconda, ecco blocchiamoci qui un attimo, del patto polis che ci permetteva, e ci permette anzi, di, non riesco a fermare, che ci permette appunto di realizzare degli altri box laboratori, su questo lato, in questo lato qui che è di via Morea, in più una sala multifunzionale, così come potete vedere, questa è la vista dall'alto. Chiaramente poi nella progettazione abbiamo previsto un terrazzo, dove questo terrazzo potrà ospitare attività di pubblici esercizi, può essere bar, ristoranti e quindi insomma quello che già si vede con un terrazzamento. Chiaramente tutto questo riporta, perché la sovrintendenza ha voluto mantenere la storia davvero bello, l'architettura storica davvero bello, infatti ha voluto mantenere nella parte iniziale e laterale quello che era la vecchia struttura e poi invece nella parte di dietro con un terrazzo a solaio piano. Chiaramente questo intervento si unisce a un altro finanziamento ottenuto pochi giorni fa, quella della rivalutazione dei beni culturali. Questo finanziamento che è circa di un milione di euro porterà ancora a togliere l'asfalto, a passare i sottoservizi, quindi creare un salotto che parte da questa struttura e arriva fino a pietra ficcata, per intenderci, per gli albero bellesi sanno a cosa mi riferisco. Quindi l'insieme di questi tre finanziamenti portano proprio a rivalutare la zona in Largo Martellotta. Che dire più? Perché abbiamo pensato questa struttura? Perché più volte ci vengono sollecitazioni dalle scuole che non hanno uno spazio dove poter far esibire tutti i lavori che si fanno a scuola. Siamo costretti a farlo una volta all'anno e magari a fine scuola, però tante mamme, tante famiglie ci chiedevano anche la scuola stessa di ripetere questi spettacoli. Tant'è vero che abbiamo previsto nella parte antistante di questa struttura, se possiamo far vedere, nella parte antistante, più avanti Piero. Ecco, in questo modo, un palco dove sono raffigurati queste persone sedute, queste ombre, un palco permanente che servirà per poter fare degli spettacoli, per poter realizzare gli spettacoli dei ragazzi, di tante associazioni che oggi stanno sul territorio e che non hanno uno spazio libero e anche gratuito perché essendo uno spazio fisso non c'è da mettere palchi, siccome sarà attrezzato anche di tutta l'attrezzatura che serve per le predisposizioni per fare un concerto, per fare un dibattito, per fare qualsiasi cosa e chiaramente l'abbiamo previsto nel triangolo avanti a questa struttura che sarà pavimentata, chiaramente questo è un rendering, poi si vedrà nei materiali, è in caso di cattivo tempo la possibilità di portare l'evento all'interno con la sala prevista, una multisala che potrà ospitare circa 250 persone, in modo tale, eccola qui, questa la vediamo da dietro, una sala multifunzionale che potrà servire a tutta la cittadinanza alberobellese, anche a fare degli spettacoli e per gli alberobellesi ma anche per i nostri turisti, quindi riteniamo che in questo contenitore che va dall'inclusione sociale per i diversamente abili a laboratori anche artigiani da quest'altro lato e con quest'altra struttura credo che si raccoglie una offerta, è una richiesta che è sempre stata chiesta, quindi diamo questa offerta a tutta la cittadinanza davvero bella. Ritengo che è una struttura meritevole di attenzione perché i materiali che saranno usati, come si può vedere, sono trasparenti perché tutto il perimetro, ecco qui si vede bene, è tutto fatto di vetrate e i box sono all'interno, quindi una struttura trasparente, leggera, con il richiamo del tetto che è fatto anche in un materiale innovativo, chiaramente ricordando il passato. Sarà prevista come si vede in questi rendering del verde per poter abbellire come si vede in questo rendering del verde e dove ci sarà anche la possibilità appunto di sostare con delle panchine, passeggiare, stare in assoluto relax. Ritengo che l'insieme di questi finanziamenti portano a una visione diversa di quella zona, una visione rivalutata, una visione che chiaramente porterà molta innovazione in quella zona. Credo che di aver illustrato sinteticamente quello che è il progetto, poi chiaramente magari in futuro potremo entrare più nel dettaglio. Però questo è quello che vogliamo comunicare con la cittadinanza proprio per far capire quello che verrà e magari così uno è cosciente delle notizie ufficiali che oggi stiamo dando. Grazie. Grazie Assessore Ricci, è stato un bel viaggio in questo senso attraverso le immagini, quella che speriamo un giorno potrà essere una realtà. La ringrazio per questa illustrazione anche dal punto di vista dei finanziamenti. Adesso passo la parola al Capogruppo Carucci per le sue considerazioni. Benvenuti a questo incontro di informazione ai cittadini, doveroso da parte dell'amministrazione proprio per chiarire il tipo di intervento che si fa nell'area di Martellotta. Per riepilogare un attimo quanto egregiamente esposto dall'Assessore Ricci, si tratta di due progetti stralcio, praticamente uno del GAL che finanzia prevalentemente attività ludico-sociali e quindi che riguarda una parte, quella per intenderci di Amicis, e poi un secondo intervento finanziato invece dal Patto Polis che riguarda la parte centrale dell'immobile, essendo di spalle a largo Martellotta, la parte centrale dove appunto viene fuori l'auditorium da 250 posti, e poi l'ulteriore galleria sul lato sinistro che riguarda invece appunto via di Amicis, via Morea. Diciamo che questo è l'aspetto dal punto di vista del finanziamento. Da un punto di vista prettamente tecnico, va un attimo diciamo sottolineata quello che è l'obiettivo e mi piacerebbe appunto rileggere quello che nella scheda presentata nella candidatura al bando del Patto Polis viene riportato. L'immobile su cui si intende intervenire con i fondi del Polis è l'edificio che ospitava fino a qualche tempo fa il mercato coperto, situato nel centro storico cittadino, baricentrica tra zona monumentale, basilica e municipio, nelle vicinanze di Largo Martellotta, con l'obiettivo di recuperarlo e trasformarlo in una struttura polifunzionale. Quindi questi due interventi che sono da una parte il GAL e dall'altra praticamente il Patto Polis alla fine fanno di questa struttura un polivalente, cioè una struttura polifunzionale. L'immobile situato nel centro cittadino è agevolmente raggiungibile sia dalle provenienze urbane che extraurbane. Il tessuto connettivo delle direttrici di attraversamento del centro urbano si collega con l'immobile mediante la via indipendenza per le provenienze da sud e da est, nonché mediante via morea e via di amicis per le provenienze da nord e da ovest. Con il recupero e la riqualificazione della struttura esistente e i fini della realizzazione di un centro polifunzionale, si intende accrescere l'offerta di infrastrutture per le attività turistiche e per manifestazioni di promozione del territorio. Una ridistribuzione attenta degli spazi interni ha permesso di dividere in due parti l'immobile, una parte organizzata con spazi per attività recreative, ludico-motorie, laboratori con finalità dei mestieri tipici, da riqualificare con altri fondi a valere sul FESR. Una parte destinata ad accogliere una sala polifunzionale dove poter realizzare qualsiasi tipo di attività turistico-ricreativa, manifestazioni, spettacoli e attività di promozione turistica del territorio. Si prevede l'insediamento di uno sportello per le informazioni turistiche. Gli interventi relativi a questa parte dell'immobile, insieme con il miglioramento di tutta la pertinenza esterna dell'immobile, saranno realizzati con i fondi del POLIS, anche al fine di allestire attività su spazi esterni. E qui abbiamo la possibilità ulteriormente, perché sarà ancora appaltata la parte del privato, di migliorare l'aspetto relativo al verde antistante. Alberobello, patrimonio UNESCO, è costantemente sede di iniziative e di associazioni, spesso di carattere internazionale, intese a promuovere un territorio unico. Con l'intervento proposto, l'immobile acquisisce la potenzialità di luogo cardine e centrale per l'organizzazione di eventi, nonché luogo di aggregazione sociale. I soggetti pubblici o privati, che manifesteranno l'interesse ad utilizzare gli spazi così riqualificati, attraverso l'organizzazione di eventi ricreativi, si propongono come volano per lo sviluppo turistico e culturale. E qui, in questa scheda, c'è l'essenza di tutto l'obiettivo che questa amministrazione vuole perseguire attraverso questa opera pubblica. E mi piacerebbe stasera leggere ancora una volta un altro aspetto che mi preme ricordare i cittadini. L'amministrazione ha collaborato con gli enti preposti, ha voluto partecipare alla stesura di un progetto che fosse anche condiviso proprio per il rispetto dell'area di riferimento. Per questo si parla di un progetto di riqualificazione. E da questo punto di vista vorrei anche, in qualche modo, ricordare alcuni passi, diciamo, del parere della sovrintendenza, che è stata coinvolta, diciamo, in tutto e per tutto, negli aspetti essenziali del progetto. L'amministrazione ha inteso proseguire l'intervento di recupero dell'immobile, prevedendo una riqualificazione strutturale e formale, conservando la modularità esistente del manufatto degli anni 60-70 e l'andamento della copertura a falde di tipo industriale, in quanto immagine consolidata nella percezione cittadina dello spazio di largo martellotta e nelle visuali laterali della viabilità del tessuto storico, inserendo all'interno un volume completamente trasparente, contenitore delle attività ricreative e artigianali. Questa sovrintendenza, pertanto, dovendo valutare l'intervento di riqualificazione dell'immobile, ritiene di poter esprimere parere favorevole al progetto di riqualificazione e valorizzazione con parziali demolizioni e ricostruzioni del manifatto esistente, nell'intento di consentire alla comunità di dotarsi di una struttura polivalente, utilizzando un immobile da anni in abbandone ed in degrado, che nella trasparenza dell'involucro, contenuto all'interno di una copertura sottile, di scala gerarchicamente superiore, consente la permeabilità visiva interno-esterno, questa permeabilità consentirà di continuare a godere dall'interno della struttura della vista dei trulli, tanto per intenderci, del tessuto urbano storico, che sull'antica foggia si affaccia e dal tempo stesso, mi preme sottolineare questo aspetto, costituisce mitigazione dell'edificato moderno che si sviluppa quale fondale opposto alla piazza, voglio dire, dalle spalle, di scarsa qualità architettonica, ponendo poi appunto le condizioni. Quindi la cortina, oggi aperta, lascia praticamente una visuale, diciamo, orrida alle proprie spalle, che con questo intervento di riqualificazione viene appunto richiusa e che offre alla comunità, ma non solo alla comunità, ai nostri ospiti delle opportunità, diciamo, importanti dal punto di vista culturale, dal punto di vista sociale. Grazie. Grazie Capogruppo Carucci. Quindi terminando questa breve trasmissione istituzionale di informazione, ritengo di portare altre due, tre significative indicazioni circa l'idea nuova e l'idea ampia che si va a realizzare anche attraverso questa riqualificazione. Innanzitutto, come sappiamo, come abbiamo visto in questi ultimissimi anni, c'è stata una creazione di una ZTL proprio a protezione della zona di Largo Martellotta, che è chiaramente la zona dove maggiormente si accolgono i turisti, ma che anche attraverso altre iniziative dell'amministrazione ha cominciato a diventare una zona dove gli artigiani locali hanno potuto organizzare tutta una serie di eventi che stanno cominciando a diventare identificativi dell'ospitalità albero bellese, anche oltre il richiamo turistico. Ed è fondamentale richiamarlo. Ci sono alcuni progetti in itinere, come quella dell'istituzione del bus navette per i nostri ospiti, che ci raggiungono da tutto il mondo, che già nella proposizione del regolamento in Consiglio Comunale prevede e prevedeva due tipi di arrivo. Uno proprio nella zona iniziale di Largo Martellotta e uno specificatamente proprio innanzi all'area oggi oggetto della riqualificazione. Non va neppure taciuto che, come ha accennato l'assessore Ricci, da pochi giorni è stato firmato un disciplinare che ha premiato l'impegno progettuale di questa amministrazione, che si è aggiudicato un finanziamento concesso a pochissime realtà amministrative pugliesi, perché era una misura a sportello fino a 17 milioni, se non ricordo male, uno dei quali è stato aggiudicato al progetto di Alberobello, che prevede l'ulteriore riqualificazione già progettata da questa amministrazione, riqualificazione culturale proprio dei rioni turistici di Alberobello, che prevede non solo finalmente l'eliminazione dell'asfalto e quindi la restituzione all'originalità dei nostri rioni, soprattutto per la migliore vivibilità dei nostri cittadini che continuano a custodire i beni riconosciuti patrimonio mondiale dell'umanità. Perché sotto, dopo che sarà tolto l'asfalto, ci saranno inseriti i cavidotti che permetteranno di portare tutte le comodità a chi vive o ha esercizi commerciali nei nostri trulli e poi ricoprire con i basolati originali della nostra civiltà. Particolare attenzione sarà data al verde proprio come momento ricreativo e di associazione che in questo progetto di riqualificazione non si evince particolarmente da questi schemi che fanno riferimento soprattutto alla struttura ma sono previsti nella scheda tecnica già per quanto riguarda il progetto del patto polis proprio per riconsegnare a una migliore vivibilità da parte dei cittadini Alberobellesi questa nostra zona che tutti vogliamo rivivere in maniera migliore anche usufruendo di quello che abbiamo sentito dall'assessore Ricci potrà diventare un contenitore culturale per le tante associazioni che oggi hanno delle dislocazioni sul territorio molto scomode e soprattutto vedono limitata la propria attività e come la misura sta permettendo, la misura del patto polis sta permettendo a tutte le comunità che ne stanno usufruendo, sono 11 le comunità, stanno permettendo di riqualificare l'offerta, di elevare l'offerta culturale di ogni singolo paese. Sarà sufficiente andare a vedere cosa negli altri comuni sta avvenendo attraverso questa finalità per vedere quanto sia coerente, quanto sia opportuno, quanto sia centrato questo recupero di quella che noi possiamo chiudere qui abbiamo sempre considerato più che il mercato coperto, la piazza coperta. Ecco ci piace sperare che attraverso questo intervento di riqualificazione tutti gli Alberobellesi rivivranno quella zona con il concetto di piazza, con il concetto di piazza tanto coperta quanto scoperta, con l'opportunità di avere queste gallerie che potranno essere non solo momento di aggregazione ma anche potranno ospitare tutte le offerte culturali di livello superiore a cui potremo ambire tutti quanti insieme avendo anche questo auditorium, questo centro polifunzionale di cui potranno usufruire tutti gli Alberobellesi e tutti gli ospiti che ad Alberobello vorranno venire. Vi ringrazio per l'attenzione, ringrazio l'assessore Ricci e il capogruppo Carucci e speriamo di vedere insieme realizzata questa opera. Grazie.